Mando il mio amore e la mia buona energia a tutti quelli che mi pensano, si ricordano di me e mi guardano. Oggi voglio incontrare le persone giuste. Io ho in me tutte le qualità e tutte le risorse per soddisfare i miei desideri. Oggi voglio incontrare le persone giuste. 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 Oggi voglio incontrare le persone giuste.